Ogni anno resta alto il numero degli anziani scomparsi. La maggioranza viene ritrovata, gran parte, nella prima settimana. Il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse sovrintende al coordinamento strategico di tutte le ricerche a livello nazionale. Quando scompare un anziano, contatta immediatamente le forze dell'ordine. Chiama il numero unico di emergenza 112 oppure rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Fornisci alle forze di polizia le generalità dell'anziano, una sua fotografia recente e altri dati utili in tuo possesso. Fornisci il suo numero di cellulare e il modello dell'apparecchio. Descrivi come era vestito, il colore degli occhi, dei capelli e ogni altro dettaglio utile a riconoscimento. Avverti se l'anziano è affetto da patologie neurologiche, come l'Alzheimer, e se fa uso di farmaci. Comunica se è dotato di dispositivo elettronico GPS per il rintraccio. Può salvargli la vita. Riporta ogni altra notizia personale che possa completare il suo profilo. Descrivi anche le eventuali motivazioni da ricollegare alla scomparsa. Più informazioni dai, maggiori sono le probabilità di ritrovare la persona che cerchi. Ma c'è ancora molto altro che tu puoi fare per contribuire al suo ritrovamento. Se vive con te, controlla l'abitazione, il computer e gli oggetti personali. Se vive da solo, chiedi informazioni ai suoi vicini di casa. Telefona a chi potrebbe averlo visto per ultimo. Aggiorna sempre le forze di polizia su ogni tua attività di ricerca e scoperta. Quando qualcuno scompare, non devi perdere tempo. Chiama subito il numero unico di emergenza 112. 112, mi dica. Grazie a tutti.